torniamo dopo un po a parlare di grandi dischi grandi dischi non prodotti e registrati da me e di grandissimi artisti oggi parliamo delle nove sinfonie di beethoven ma in realtà parlare delle nove sinfonie di beethoven è per me un puro pretesto per parlare di uno dei più grandi interpreti di questo repertorio di tutti i tempi e questo al di là di ogni ragionevole dubbio e sto parlando di herbert von karajan il grande direttore tedesco quindi prima di affrontare il tema delle nove sinfonie in particolare delle sue nove sinfonie voglio proprio parlare del grande von karajan sì perché esistono una serie di mitologie attorno a questa figura sicuramente controversa non si può scindere l'artista dall'uomo nel caso di karajan in realtà non lo si può fare mai in nessun caso ma in particolare nel caso di karajan proprio per come la sua vita la sua vicenda umana sia indissolubilmente legata alle vicende più tragiche del secolo scorso del novecento karajan infatti nasce nel 1908 a salisburgo nasce in una famiglia molto agiata dell'alta borghesia quindi diciamo subito allineate in qualche modo al potere qualunque esso sia o fosse e inizia a svolgere la sua attività artistica molto giovane lui fra l'altro è un bambino prodigio già cinque anni suona il pianoforte in condizioni da potersi esibire pubblicamente quindi lui è innanzitutto un grande pianista ma molto presto attorno all'età dei 19 20 anni inizia subito l'avventura della direzione orchestrale e non poteva che essere così per un artista ripeto che aveva una grande visione della musica che non poteva in nessun modo restare legata al singolo strumento quindi la direzione orchestrale era proprio il segno del suo destino ebbene dicevo questo accade a questo punto fra il 1929 e 1930 i primi grandi successi ovvero in piena epoca nazista saltiamo subito al dunque al nocciolo della questione perché le note biografiche di karen han sono molto complesse vista la mole enorme di opere che lui ha diretto ha concepito ha rivisto ha stravolto i concerti basta andare su sulla classica enciclopedia universale online per ricavare tutte queste semplici nozioni voglio concentrarmi invece su alcuni aspetti come dicevo partendo subito dall'uomo partendo da questa grande polemica che lo vede e lo fa riconoscere come un nazista convinto cioè come un artista che per tutto il periodo del nazismo abbia dedicato con convinzione la sua opera al partito nazista ea quelle terribili ideologie che hanno stravolto e devastato l'umanità a metà del secolo scorso ebbene non è esattamente così anche se senza dubbio come vedremo fra un attimo karajan non è scevro da colpe a riguardo in particolare gli storici mettono sempre a confronto e creano questo dualismo che a tutti gli effetti c'era fra l'altro grande direttore più anziano di una generazione rispetto a lui che ha segnato quegli anni direttore ancora una volta tedesco che era willem furt wangler queste due personalità in qualche modo si scontrarono furono veramente contrapposte non solo dalle così dal pubblico della critica di allora e anche soprattutto successivamente a quel periodo in proiezione storica ma proprio fra loro non correva assolutamente nessuna simpatia e allora andiamo a cercare di capire veramente come stavano le cose ora senza dubbio furt wangler è noto per essere stato un direttore che non ha mai preso la tessera del partito nazista e di questo bisogna dargliene atto al di là di ogni ragionevole dubbio e allora voi dite com'è possibile che all'interno di questo feroce dannato criminale regime una personalità così illustre che in qualche modo ha sfidato il regime senza mai scriversi appunto al partito cosa che ricordo era obbligatoria per svolgere qualunque attività civile e sottolineo come per svolgere qualunque attività civile umana per essere considerati esseri viventi durante il nazismo era necessario esibire una tessera ebbene diceva nonostante non avesse avuto questa tessera la sua grandezza la sua statura d'artista ne fece innamorare lo stesso adolf hitler anche perché bisogna riconoscere che questi dannati bastardi dei nazisti avevano un grande gusto per l'arte fosse essa l'arte figurativa i quadri ne avevano così tanto gusto che fecero razzie ovunque andassero di tutti i più grandi capolavori di tutte le più grandi opere d'arte in cui si imbattevano e si narra che lo stesso hitler nel suo buon ritiro sulle alpi austriache avesse una delle più formidabili pinacoteche concepibili quindi anche per la musica avevano un gusto spiccato sapevano riconoscere la grande arte musicale in particolare proprio adolf hitler e questo è il motivo per cui furtwangler fu sempre considerato in qualche modo un artista di punta ma perché perché furtwangler pur non avendo sposato e di questo ne abbiamo la certezza assoluta la politica nazista fu in realtà l'impersonificazione dello spirito filosofico a cui la politica nazista si ispirò cerco di spiegarmi la sua visione musicale era molto molto modellata anzi lui ne fu quasi sacerdote sulle grandi filosofie nordiche le sue interpretazioni wagneriane ma anche beethoveniane rimarcavano quello spirito che era alla base poi della deviazione che la politica nazista volle imporre a quello spirito non possiamo citare non a caso come base filosofica lo stesso nice quindi delle basi filosofiche in sé per sé astratte che poi i nazisti piegarono ai loro scopi e alle loro necessità e bene furtwangler fu un artista con una personalità e che seppe dare un taglio abbastanza univoco a tutta la sua opera in questa direzione cito per quanto riguarda ad esempio il suono delle orchestre tedesche come il fatto che le orchestre di furtwangler per prime usassero l'accordatura a 4 e 45 ovvero un'accordatura molto tesa molto in alto molto spigolosa volta a rimarcare rimarcare il taglio spigoloso della cultura nordica della cultura tedesca una sorta di aggressività del suono proposto con questo tipo di accordatura decisamente anomala e decisamente lontana dal più classico 440 o addirittura dalla frequenza che oggi viene considerata in qualche modo la frequenza perfettamente accordata al flusso della vita che è il 4 e 32 ma di questo abbiamo già parlato in passato con la carissima amica amara maria grazia bambini e vi invito quindi ad andare a cercare quell'intervista proprio su questa ricerca attorno alle frequenze essenziali e fondamentali della musica e della nostra vita comunque resta il fatto che il 4 e 45 fosse questo limite veramente marcato 4 45 che usava anche carayana ma sicuramente in furtwangler vi fu il primo mentore il primo appunto sacerdote quindi furtwangler non era per nulla un nazista ma secondava in qualche modo la visione artistica a cui il nazismo si ispirava per le sue distorsioni ecco quindi che poter sempre lavorare abbastanza indisturbato nel caso di carayana invece siamo da tutt'altra parte infatti carayana era meno amato dal regime in particolare non era amato per nulla da hitler per esempio perché probabilmente si erano subito ben resi conto di come di come carayana possedesse la famosa tessera fosse iscritto al partito esclusivamente per motivi di opportunità in realtà carayana fu sempre un forte diciamo così egocentrico vedremo poi quanto questo egocentrismo in realtà fosse anche una una dote oltre che un difetto dal punto di vista artistico dicevo carayana era un opportunista era un opportunista infatti lui si iscrisse abbastanza presto nel 1933 con la tessera targato 1.600.000 eroti adesso non ricordo il numero esatto ma non si preoccupò mai di ritirare questa tessera quando infatti i gerarchi nel 35 si accorsero di questo fatto che lui era iscritto ma in realtà non possedeva la tessera che non era mai stata così ritirata ovviamente si ritarono non poco e lo costrinsero ad una seconda iscrizione al partito nel 1935 con la tessera 3.500.000 eroti questo per dire quanto in realtà carayana fosse lontano dalle vicende politiche tuttavia questa non è una giustificativa perché appartenne in quel caso a quel grande mondo di opportunismo artistico che segna un po tutta la storia dell'arte umana gli artisti si sa che pur di lavorare si adeguano e sono servitori di dieci bandiere oggi c'è questo domani c'è quello per loro conta lavorare conta esprimere la propria arte a prescindere da qual è il potere io pensavo che questa fosse una strada corretta fino a pochissimo tempo fa ma negli ultimi anni mi sono convinto che non si può staccare e prescindere la visione della realtà dalla propria opera artistica e mi rendo conto che questa è una visione discutibile criticabile e anche molto criticata da una parte anche importante dei cosiddetti metrapensé e anche degli appassionati ho sempre pensato che l'arte dovesse prescindere dall'uomo e la storia ci insegna di artisti giganteschi pensiamo a caravaggio che in realtà nella vita erano degli esseri immondi e disgustosi ma che però partorirono delle opere d'arte oggettivamente assolutamente supreme quindi questo è sicuramente una considerazione da fare però ripeto forse anche in funzione delle differenze di epoche in cui ci si trova a vivere ci sono dei momenti in cui è importante che anche l'artista in qualche modo prenda delle posizioni delle posizioni importanti delle posizioni marcate ecco non fu il caso di karajan per quanto riguarda il dualismo fra karajan e furt wangler lo era anche nella sostanza dei fatti cioè nella sostanza artistica furt wangler sia per il fatto che karajan fosse iscritto avesse la tessera del partito sia proprio per la sua visione musicale che adesso andremo ad analizzare lo detestava si narra che furt wangler quando si rivolgeva e parlava di karajan lo chiamasse il piccolo k proprio all'insegna del massimo disprezzo ma abbiamo parlato della visione univoca e sposata a una filosofia precisa anche artistica di furt wangler vediamo invece karajan karajan si è ritagliato una nomea da alcuni amatissima da altri in qualche modo sempre disprezzata anche per quanto riguarda la sua lettura musicale karajan è forse il primo grande direttore che riesce a modellare un proprio stile un proprio suono il suono karajan che poi arrivò ad applicare a qualunque a qualunque tipo di musica lui affrontò e possiamo a buon diritto dire che karajan affrontò qualunque repertorio dal barocco di vivaldi da bach fino a beethoven fino ai contemporanei quindi spaziando anche negli organici nella tipologia di orchestre più grandi più piccole ensemble cameristici non si è fatto mancare nulla e poi ovviamente la grande opera quindi lo stage i cantanti sul palco l'orchestra in buca ebbene sempre quando karajan saliva sul podio ecco che si riconosceva questo suono questo suono che era un suono alcuni lo accusano di essere laccato eccessivamente levigato a tratti addirittura lezioso sempre all'insegna di una certa suadenza rivolta quindi dicono i più critici e cattivi a captare la benevolenza del pubblico per questo tipo di approccio in realtà io non vedo questa negatività vedo solo un grandissimo artista che aveva una forte visione della musica ma soprattutto aveva una forte visione del mezzo con cui la musica si esprime ovvero il suono per karajan il suono fu veramente fondamentale e lui aveva questa capacità assolutamente io penso sovrumana di riconoscere e guidare ogni singolo musicista della sua orchestra si narra che karajan durante le direzioni le prove dei concerti le registrazioni quando la quinta viola di fila sbagliava qualcosa lui sapeva perfettamente identificarla con gli occhi chiusi e la indicava con gli occhi chiusi e diceva lei quel passaggio lì dovrebbe farmelo in questo modo piuttosto che in quell'altro cioè aveva una percezione decisamente atipica e differente da come possiamo avere noi da come può avere qualunque ascoltatore dal suo podio di ogni singolo strumento dell'orchestra ecco quindi che anche dal punto di vista della registrazione soprattutto fra gli anni 60 e 70 quando karajan era di fatto ormai una divinità era il padrone fra virgolette in senso l'altro lato del della della deutsch granfond della più grande compagnia discografica dell'epoca padrone nel senso che disponeva esattamente quello che lui voleva cioè una registrazione di karajan era guidata da karajan i tecnici potevano proporre delle soluzioni ma il suono finale era voluto e pensato da lui e un'altra cosa appunto di cui si narra è la spinta verso la multimicrofonia voluta dallo stesso karajan quando se ne presentò l'opportunità ovvero negli anni 70 e questo perché perché le riprese più così naturali diciamo che assecondano tutte le teorie del bel suono d'orchestra il one point inter recording i pochissimi microfoni da cui si arrivava naturalmente dalla grande tradizione degli anni 50 e per karajan erano un limite perché quel tipo di registrazione non trasportava su nastro quello che lui percepiva cioè questo iper dettaglio questa iper definizione quindi anche questa è una piccola leggenda metropolitana nel senso che non abbiamo prove concrete di questo fatto ma è molto molto probabile che questa spinta nell'ambito delle riprese multimicrofoniche della grande orchestra degli anni 70 in particolare dell'etichetta deutsche granfon fossero proprio in qualche modo volute da karajan che voleva andare a sentire le singole sezioni i singoli leggi addirittura no dell'orchestra con grande precisione anche nella riproduzione così del del suono su nastro esattamente come lui la percepiva dal suo podio questo ha portato inevitabilmente poi anche a delle distorsioni perché in quegli anni lì pur presentandosi questa giovane tecnica multimicrofonica in realtà si riusciva a fare bene le riprese ma poi c'erano grosse difficoltà appunto nel missaggio missaggio che ancora una volta soprattutto nei dischi di karajan era così pensato e voluto a sua immagine e somiglianza da qui la nomea e così la cattiva reputazione delle registrazioni deutsche di quegli anni che in realtà erano eccellenti registrazioni ma probabilmente mixate e masterizzate in modo non opportuno in realtà anche questo è in parte vero perché se è vero che i vinili di quegli anni suonavano effettivamente malissimo ma suonavano malissimo per questo grande equivoco di cui abbiamo già parlato in altre occasioni di una equalizzazione in riproduzione dai sistemi dei giradischi domestici non adatta non adeguata al tipo di equalizzazione impostata dai tecnici e anche questo è la nota asterisco che vi rimanda ai video in cui parliamo delle differenti equalizzazioni dei vinili come vedete sto buttando un sacco di carne al fuoco su questo video a cui penso fra l'altro da due mesi e essendo estremamente complesso ho detto ma fatemi capire bene il taglio da dare e come vedete pur cercando di sintetizzare alla fine parlando di questi temi e parlando di questo grande artista si finisce per sforare nell'ambito della politica della filosofia della tecnica del suono tutto questo fatto cioè questa così diramazione e divagazione evidentemente in questo caso voluta e non casuale è per accrescere e sottolineare l'importanza di karajan nella storia tout court del novecento quindi non solo nella storia artistica lui poi fu anche un uomo amante della vita cioè nella sua vita privata ad esempio karajan è noto per essere stato un grande amante di automobili grazie anche alla indubbia e quasi incalcolabile ricchezza che seppe accumulare lui fu proprietario di una collezione di auto sportive assolutamente fenomenale sensazionale ma fu anche ma fu anche un grande talent scout cioè alcuni dei più grandi artisti che oggi si possono considerare massimi interpreti mondiali nascono sotto la sua ala protettrice faccio un nome su tutti il grande pianista evgeni kissin che secondo me è oggi uno dei tre più grandi pianisti viventi ebbene debutta in un video che vi consiglio di cercare si trova qui su youtube nell'esecuzione del famoso concerto di tchaikovsky per violino e orchestra a 16 anni sotto la direzione di karajan che lo volle a tutti i costi io vi consiglio di cercare questo video perché è straordinario sono straordinarie gli sguardi lo scambio degli sguardi fra kissin e karajan qualcosa che dai brividi solo a pensarci ho detto di kissing ma una delle più grandi violiniste viventi an sophie mutter anche la an sophie mutter 15enne debutta viene scoperta e lanciata da herbert dal grande herbert von karajan e ho detto due giganti ma a questo punto potrei citare anche altri grandi nomi per quanto riguarda le orchestre lui salì sul podio di tutte le più grandi orchestre europee senza dubbio ma è innegabile come la sua figura sia legata indissolubilmente ai berliner philharmoniker di cui fu direttore a vita e questo è un dettaglio non indifferente anche perché come spero tutti sappiano se non lo sapete ve lo dico io i berliner sono un'orchestra decisamente anomala ovvero sono proprietari di se stessi i berliner sono questa strana forma democratica d'orchestra tale per cui è l'orchestra stessa ad autogovernarsi ad autodirigersi sono i maestri berliner che votano all'unanimità la scelta di un direttore ogni direttore e nel caso di karajan fu votata all'unanimità pressoché all'unanimità la la decisione di fissarlo come direttore a vita sono cose che se ci pensate insomma danno danno una sensazione vediamo infine al disco che in realtà come vedete è stato più un protesto per parlare di karajan che del disco stesso il disco è questo qui allora si tratta dell'ultima versione quella che non è o non era finora considerata la migliore delle tre più celebri registrazioni delle nove sinfonie di beethoven ad opera di karajan stesso è la versione che ha visto la luce fra il 75 e il 77 i famigerati anni della multimicrofonia spinta universalmente è considerata la sua migliore la prima quella del 1962 e indubbiamente si tratta di un'esecuzione gigantesca e che io stesso sempre preferito fino ad ascoltare questa particolare versione questo remastering che non è solo un remastering ma è proprio un remix potremmo dire assolutamente fondamentale operato dai tecnici degli emil berliner studios nel fra il 2016 e 2018 innanzitutto il supporto il supporto è uno dei rari purtroppo blu ray disc e ci presenta tre differenti colonne uno stereo e un multicanale pcm lineari non compressi a 24 bit 192 kilohertz e una colonna addirittura mixata in dolby atmos alla frequenza di 24 bit 48 kilohertz mi concentrerò sulle due versioni pcm lineari per parlare del suono ma il suono in questo caso è assolutamente legato a doppio filo con la lettura musicale sì perché per la prima volta grazie alla tecnologia digitale partendo dai nastri multitraccia originali è stato fatto un messaggio che ha riposizionato i molti microfoni utilizzati secondo le regole della fase acustica dando quindi una nuova freschezza e dignità al suono e riportando probabilmente il suono veramente come lo sentiva carajan quindi con il dettaglio che sentiva carajan ma anche con tutta l'ambiezza la profondità e di conseguenza la incredibile morbidezza del suono in particolare degli archi gli archi di carajan qui vengono esaltati si capisce fino in fondo la potenza la forza e al tempo stesso la morbidezza la grandissima dinamica cioè qui siamo davanti veramente a una registrazione suprema una registrazione imprescindibile di grande orchestra forse in termini assoluti magari inferiore a quello che si può ottenere oggi partendo da una registrazione nativa ad altissima risoluzione con tutte le competenze e le conoscenze di oggi però il grande valore aggiunto come si dice e che valore è proprio nel suono nella lettura musicale del grande maestro tedesco ecco è un disco che io consiglio assolutamente in particolare vi consiglio di andare a sentire la quarta e l'ottava sinfonia quindi uscendo dalle celeberrime terza quinta nona e proprio per andare a scavare dei dettagli che magari in altre pure eccelse interpretazioni vengono visti in modo differente l'ultima curiosità che mi viene da raccontare sul nostro caravan è appunto il suo apporto al mondo tecnologico e in questo caso mi viene da dire addirittura forse negativo vedete sto sorridendo ma una leggenda metropolitana narra di come il suo parere di lui che era ormai verso la fine della sua carriera e anche della sua vita purtroppo fu determinante nell'impostazione dello standard del compact disc sì perché originariamente sempre si narra non abbiamo prove di questo ma insomma importanti indizi e informali commenti degli addetti ai lavori si narra come nel momento in cui si stava per lanciare il compact disc lo standard pensato fosse di una durata di 60 minuti e utilizzando i 16 bit mai 48 kHz ebbene questa secondo me sarebbe stata in assoluto probabilmente la scelta migliore una scelta che avrebbe consentito successivamente di da subito avere un approccio di suono molto più interessante perché la differenza fra 44 e 100 e 48 kHz è veramente esiziale credetemi chi l'ha potuta sperimentare ad esempio nell'uso del dat sa bene di cosa sto parlando quindi quella probabilmente era sicuramente la scelta tecnica migliore però i dirigenti della philips e della sony che curavano il progetto cd pensarono di chiedere a carriam quale dovesse essere la durata perfetta del compact disc e lui rispose quanto la durata dell'esecuzione della mia nonna sinfonia di beethoven che era collocata a seconda dei giorni attorno ai 72 72 minuti e mezzo di durata totale ed ecco che nacque la famosa durata di 74 minuti che però implicò per la tecnologia all'epoca disponibile la riduzione della frequenza di cappionamento da 48 kHz a 44 e 100 e questa è la leggenda leggenda che credo non sia troppo lontana dalla verità insomma come vedete non ho parlato molto di beethoven anche perché forse quello che ho detto di carriam può avere un interesse quello che posso dire io di beethoven andrebbe a sommarsi a un elenco infinito di critici molto più autorevoli di me che hanno già sviscerato a 360 gradi credo che sia veramente difficile dire di più o soprattutto qualcosa di differente a proposito di questo sommo capolavoro assoluto della storia della musica quindi ancora una volta vi rimando allo studio dei grandi critici che hanno parlato di beethoven e delle sue non le sinfonie senza che io aggiunga parole tutto sommato inutili e superfle su questo tema bene la mia idea oggi era di parlare anche di un altro disco ma siamo già a mezz'ora di chiacchiere e quindi assolutamente rimandiamo la l'analisi dell'altro disco a cui avevo pensato e non vi anticipo lasciandovi la curiosità di scoprire prossimamente di cosa si tratta appunto ad un'altra puntata vi ricordo quindi a questo punto come sempre di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo siate che è un'operazione per noi fondamentale per continuare a proporre contenuti spero interessanti vi rimando all'ascolto di oggi che sarà assolutamente adeguata in linea al tema di cui abbiamo parlato e anche per oggi come sempre inevitabilmente that's all folks grazie a tutti 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 grazie a tutti